Presentato a Teramo il corso di laurea in orientamento professionale intensificazione sostenibile delle produzioni ortofrutticole di qualità della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali che va ad arricchire ulteriormente l'offerta formativa dell'Università degli Studi di Teramo nel campo della sostenibilità. Il corso di laurea nasce dall'analisi del contesto produttivo ortofrutticolo regionale, nazionale e globale che individua come i fenomeni di intensificazione delle produzioni agricole e di digitalizzazione dei sistemi agroindustriali richiedono inevitabilmente nuove figure professionali dedicate alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione delle risorse agrarie in un contesto sempre più incline alla sostenibilità ecologica, economica e sociale. Sì, cresce sempre di più, è un'offerta formativa sempre più indirizzata. Stiamo parlando del corso di laurea in intensificazione sostenibile delle produzioni ortofrutticole di qualità è un corso di laurea che completa l'offerta formativa della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali nel settore primario, quindi nel settore agrario che era il settore nel quale non c'era un percorso formativo specifico e un corso professionalizzante, quindi intercetta la nuova normativa nel senso che i ragazzi che si laureano nell'arco del triennio sono pronti per il mercato del lavoro. È un corso che nasce in perfetta sinergia con gli stakeholder, quindi con le aziende del settore ma anche e soprattutto con gli istituti agrari, quindi tecnici agrari del territorio di tutta la regione coordinati dal ROZI, quindi dall'Istituto Agrario di Teramo. Quindi è un'esperienza importante che si colloca sempre nel percorso della sostenibilità dell'Università di Teramo, ormai intrapreso e sempre più caratterizzante. Un corso di laurea che intercetta le esigenze formative e di lavoro nel settore agroalimentare e come si diceva prima, praticamente completa l'offerta formativa dell'Università di Teramo nel settore agroalimentare.